Sì, la mia festa viene. Non viene Nonna Lucio alla tua festa, stamattina l'ha detto che non vuole venire. Ah, non vuole venire a figlio? Sì, non vengono. Diglielo, vedi, ti sto facendo un video così glielo mandiamo, ma tanto ti ha dato già il pacco. Sì. E poi che altro devi venire? Non la Lidia? Non la Lidia, no? Non la Lidia, no? Non la Lidia, no? E vai chiaccia non la Lidia, no? No, finché non è la casa. E i cervelli? Sì, non la Lidia. Sì, non la Lidia, non la Lidia. Vabbè, e poi? Della tua classe viene? Tutti gli amici, come si chiamano? Vittorio Anna. Anna pure viene in classi. Chi è Anna? Elina Anna. Elina Anna. Elina Anna. Elina Anna. Elina Anna. Elina Anna è me e Valeria. Pure Valeria? Sì. È moschile? Sì, sì. perché gli devono mangiare questa gente a forma di cuccura